La teoria del desiderio mimetico in René Girard Nel 1961 René Girard pubblica Menzogne romantique, verità romancesche, in Italia pubblicato inizialmente col titolo di Struttura e personaggio del romanzo moderno e poi con la traduzione più fedele di Menzogna romantica e verità romancesca presso Bonpiani. Girard, professore di letteratura comparata, nato ad Avignone ma vivente negli Stati Uniti dal 1946, conduce in questo lavoro un'analisi sui testi delle grandi opere letterarie della narrativa occidentale, nelle quali individua una problematica del desiderio fino ad allora sconosciuta. È l'atto di nascita della teoria del desiderio mimetico che troverà nelle successive opere di Girard precisazioni, correzioni, approfondimenti. Cosa sappiamo del desiderio umano? L'opinione dominante tanto nelle scienze umane che nel senso comune è che l'uomo fissi in modo completamente autonomo il suo desiderio su un oggetto. Questo approccio spiegherebbe la nascita del desiderio col fatto che ogni oggetto possiede in sé un valore suscettibile di polarizzare il desiderio medesimo. Guardando da presso la nostra esperienza quotidiana vediamo che il desiderio che ho per questa donna, questa ambizione di riuscire nel mio lavoro, questa nuova automobile che prevedo di comprare, sembrerebbero procedere unicamente dalla mia libera scelta. Questa visione lineare del desiderio che collega con una linea retta il soggetto all'oggetto è a tutta prima di una semplicità evidente, ma ci costringe tuttavia ad un certo numero di contorsioni quando tentiamo di spiegare con lo stesso sistema esplicativo fenomeni strettamente legati al desiderio quali l'invidia o la gelosia. Riflettendoci bene, ma lo riconosciamo abbastanza di rado, noi desideriamo meno l'oggetto di quanto invidiamo la persona che possiede quell'oggetto, quest'ultimo non avendo quindi che un'importanza molto relativa e in alcuni casi traiamo soddisfazione più che dal possesso dell'oggetto stesso dal fatto che l'altro non riesca a possederlo. Del resto la pubblicità, quest'inno al possesso di oggetti offre alla nostra coscienza desiderante non solo già un prodotto nella sua per così dire causalità, ma delle persone, degli altri che desiderano questo prodotto e che sembrano bearsi del suo possesso. Analizzando le grandi opere romanzesche, Cervantes, Stendhal, Proust e Dostoevsky, René Girard individua un meccanismo del desiderio umano completamente nuovo. Quest'ultimo non si fisserebbe in maniera autonoma, secondo una via lineare, soggetto, oggetto, ma per imitazione del desiderio di un altro, secondo uno schema triangolare, soggetto, modello, oggetto. Don Quixote desidera chiaramente dedicare la propria vita all'imitazione di Amadigi di Gaula, così come il cavaliere della triste figura immagina possa essere. Il signor Derenal desidera prendere Julien Sorel come precettore soltanto perché è convinto che sia ciò che ha intenzione di fare il suo rivale Valenot, l'altro personaggio in visita di Berriè. Il cristiano stesso è impronta da propria esistenza secondo l'imitazione di Cristo, come un celebre trattato suggerisce. L'ipotesi girardiana si basa dunque sull'esistenza di un terzo elemento mediatore del desiderio, che è l'altro. È perché l'altro, che ha preso come modello che desidera un oggetto, concepito come una cosa che l'altro possiede e a che me manca, che mi metto a desiderarlo anch'io. E d'altra parte l'oggetto acquista valore soltanto perché è desiderato da un altro. Si potrebbe pensare che l'introduzione di questo terzo vertice nell'equazione del desiderio sia una complessità supplementare puramente teorica ed arbitraria da parte di René Girard, tanto più che la presenza di quest'altro comporta una rimessa in discussione totale di quest'individualismo al centro della modernità, che mostra l'uomo come un'entità libera ed autonoma e che trova la sua espressione letteraria nel tipo dell'eroe romantico. Da qui la contrapposizione tra la verità romanzesca e la menzogna romantica, addombrata nel titolo originale francese. Il soggetto desidera ma non sa cosa. Nella sua fluttuazione d'animo incrocerà un essere fornito di qualcosa che gli manca e che sembra dare a quest'ultimo una pienezza che egli non ha. Questa pienezza evidente, così vicina e così lontana, è ciò che propriamente lo affascina. Il desiderio non saziato del soggetto sembra porre sempre la stessa domanda al modello. Fissare la propria ammirazione su un modello è già riconoscergli o concedergli un prestigio che non possiede, ciò che equivale a constatare la propria insufficienza di essere umano. Non è ovviamente una posizione delle più comode, ma l'uomo che prova ammirazione e che attraverso essa invidia l'altro è innanzitutto qualcuno che si disprezza profondamente. Il desiderio che ha il soggetto per l'oggetto non è nient'altro che il desiderio che egli ha del prestigio dagli stesso assegnato a colui che possiede l'oggetto o che si pone a desiderare contemporaneamente a lui l'oggetto. Così si istituisce la mediazione del modello ed una prima trasfigurazione dell'oggetto. Ad esempio un'automobile è qualcosa di più di questa carcassa d'acciaio che permette di trasferirsi da un posto ad un altro, altrimenti qualsiasi modello d'auto servirebbe allo scopo. E invece è l'oggetto su cui proietto la mia carica libidinale che mi permette non solo di avere ma anche di essere uno sciupafemmine, un dirigente, un capobanda eccetera. Ma anche il vestito per una donna ha questa funzione. Non è solo il piacere di possedere un capo di vestiario, è soprattutto quello di interpretare un ruolo che stimola la donna all'acquisto. Non cosa vuole avere dunque, ma cosa vuole essere. Una donna cerbiato, una pantera, una vamp, una trasgressiva o una conformista? E' così che spesso la donna o l'uomo non si veste, ma si traveste. L'oggetto posseduto fornisce dunque gli elementi di una identificazione sociale. Come nota René Girard, il soggetto svalorizzerà sempre questa anteriorità del modello, poiché ciò lo scoprirebbe e ne rivelerebbe la propria insufficienza, la propria inferiorità. Il fatto che il proprio desiderio non è spontaneo, ma frutto di imitazione. In questo gioco del desiderio, il modello a sua volta non è risparmiato più del soggetto. Anche egli cerca di fissare il proprio desiderio ed attende che gli si indichi qualcosa di desiderabile. E' proprio ciò che già fa il soggetto del nostro triangolo, il quale da questo punto di vista è anche egli un altro. Sappiamo anche che non è l'oggetto nella sua cosalità, che vedrà ora il modello, ma un oggetto trasfigurato dal desiderio del soggetto, che gli dà un valore completamente diverso. Il modello dunque non ha un ruolo passivo in questo triangolo, non si accontenta di attendere una volizione del soggetto, fa al contrario tutto per farla nascere. Un oggetto da nessuno bramato non avrebbe alcun interesse, nessun valore capace di fissare il desiderio. Pertanto il modello, come qualsiasi soggetto desiderante, tende a magnificare il proprio oggetto e ad esibire il proprio vantaggio, che diventa tale solo se, dall'altro, è riconosciuto come tale. In altri termini, il desiderio del modello ha bisogno di sentire altri desideri competitivi al proprio, per trovare saldezza e pienezza del possesso. Tende dunque sempre a suscitare lui stesso la concorrenza, cioè a causare l'emergere di un rivale che egli tenderà a soppiantare. L'innamorata che elogia le qualità del proprio partner presso le amiche, cerca più di affermare vanità e orgoglio e la superiorità della propria felicità che a confermare il proprio desiderio. La risposta che intende suscitare è che le sue amiche, invidiose di questa felicità, si mettano a desiderare il suo partner e rifiutino ogni pretendente. Questo non farebbe che confermare l'innamorata nella sua vacillante certezza di aver scelto bene. La circolarità infernale del desiderio mimetico è ora in atto. Nessun acquirsi del desiderio per l'oggetto da parte del modello fuggirà al soggetto, che vi vedrà la conferma della sua importanza e che intensificherà di sforzi per possederlo. Ciascuno dunque, soggetto o modello, ha contribuito all'emergere dell'altro come rivale. Il desiderio non si ferma mai alla sola constatazione delle differenze. Vuole diventare l'affascinante altro e dunque eliminare tutto ciò che lo distingue dal suo modello. Perché tutto in quest'ultimo gli dice fai come me. Il desiderio secondo l'altro è sempre il desiderio di essere un altro. C'è un solo desiderio metafisico, ma i desideri particolari che concretizzano questo desiderio primordiale variano all'infinito. È proprio ciò che fa Don Quixote con Amadici di Gaula. Per diventare un cavaliere perfetto basta imitare gli atti di un cavaliere perfetto. Ed è anche il comportamento che assumono i bambini nel processo di crescita e socializzazione, come nella proprietà del linguaggio. Imitando gli adulti, genitori o insegnanti, con una precisione terribile fanno come i grandi, meglio, diventano grandi. Nei casi citati non c'è reale contrapposizione tra le azioni e le intenzioni del soggetto e del modello. René Girard parlerà allora di mediazione esterna, desiderare di essere qualcun altro nel processo di identificazione senza innescare meccanismi di rivalità, anche perché il modello è distante o astratto. Don Quixote può bene imitare puntualmente ciò che pensa essere il comportamento del proprio eroe, ma ciò che separa l'uno dall'altro resta invariato nonostante gli exclua del cavaliere. Il modello Amadigi non disegna nulla di particolare ed i fallimenti di Don Quixote non comportano alcuna conseguenza, poiché può facilmente passare ad altra cosa. Parimenti i bambini imitano da vicino i loro insegnanti, vengono anche incoraggiati a farlo, ma all'interno di un quadro pedagogico che mantiene una certa distanza tra soggetto e modello e che ne proibisce la confusione. Se molte ragazze vogliono diventare maestre di scuola è più tardi che ciò accadrà e tutto si scioglie in questo più tardi. La distanza soggetto modello che caratterizza la mediazione esterna non è una semplice questione di distanza fisica o temporale, ma attiene anche alla natura delle differenze che separano all'origine l'uno dall'altro. Benché la distanza geografica possa costituire un fattore, la distanza fra il mediatore e il soggetto è inizialmente spirituale. Don Quixote e Sancio sono sempre fisicamente vicini, ma la distanza sociale ed intellettuale che li separa resta insormontabile. Tuttavia, salvo ad evolvere nel vuoto, che è una delle illusioni romantiche, il desiderio inevitabilmente entrerà in contatto con altri desideri. Lo farà tanto più facilmente e rapidamente di quanto questi sono vicini, cioè si interessano agli stessi oggetti. Così nulla separa il signor di Renal da Valenot, che si affrontano tutti e due per predominare la vita sociale di Verrier e che stanno dunque molto attenti a ciò che fa l'altro. Julien Sorel non è il precettore qualsiasi, ma è quello che permetterà al suo datore di lavoro di ottenere un vantaggio in questa lotta di prestigio. Questa prossimità dei desideri e la rivalità che comporta caratterizza ciò che Girard chiamerà inizialmente la mediazione interna e che diventerà successivamente il desiderio mimetico tout court. Il maestro che incoraggia il suo allievo ad acquistare la sua conoscenza, il capitalismo occidentale, che osservava con benevolenza anche con la condiscendenza, gli sforzi compiuti dall'economia giapponese per copiare i suoi prodotti, stanno nella stessa situazione della nostra innamorata vista precedentemente. La venerazione che porta loro il soggetto serve inizialmente a confermare questa differenza, questa superiorità. L'adorazione del soggetto si nutre di questo orgoglio che rende il suo modello così desiderabile. L'allievo intende almeno uguagliare il maestro, l'economia giapponese fare come l'economia occidentale. Più il soggetto imita il modello e meno ciò che li separa diventa percettibile, la differenza essendo propriamente assorbita dal primo. Quando l'allievo dispone delle stesse conoscenze del maestro, quando l'allievo dispone delle stesse conoscenze del maestro, non c'è certamente più né maestro né allievo ma due persone che possiedono la stessa conoscenza. La gerarchia iniziale che permetteva di situare uno e l'altro nel mondo, uno rispetto all'altro nella loro relazione, è abolita. Il modello avverte il pericolo che può presentare per lui questa confusione, questa indifferenziazione, che diventerebbe la peggiore delle situazioni. Tanto più che esiste sempre il rischio che l'allievo superi il maestro e che l'originale sia presto considerato la copia. Ma più i rivali mimetici sono vicini e tentano di differenziarsi, tanto più finiscono per somigliarsi. Sono visibili in questa argomentazione gli ecchi della dialettica servopadrone e della nozione di coscienza infelice, elaborati da Hegel nella fenomenologia dello spirito e da Girard apertamente richiamati. La questione della perdita delle differenze è centrale nell'ipotesi girardiana. Tutti gli aspetti delle culture umane sono fondati sulla creazione permanente di differenze che permettono di trovare il proprio posto a ciascuno e ad ogni cosa. La nostra necessità di comprensione ed organizzazione del mondo si realizza grazie a questa creazione permanente di differenze, nei quali vediamo la incomparabile ricchezza, diversità dell'umanità. Infatti viviamo e pensiamo in un sistema principalmente differenzialista. Un certo pensiero positivo ha del resto spiegato il fatto che il senso poteva nascere soltanto in una situazione di squilibrio tra due termini e ciò ci spinge sempre a ricercare il punto discriminante per comprendere. Dinanzi all'identico proviamo immediatamente la necessità di distinguere. Infatti il nostro atteggiamento di fronte a gemelli di solito è quello di trovare almeno una specificità all'uno o all'altro che ci consenta di sapere chi è chi. Il desiderio mimetico conduce ad abolire queste differenze, dunque a rendere confusi tutti i riferimenti preesistenti. Se nulla di ciò che mi distingueva dal mio vicino non esiste più, chi sono io effettivamente? Il modello dispone di un mezzo radicale per mantenere la distanza col soggetto, quello di proibire al soggetto desiderante il possesso dell'oggetto. Al messaggio fai come me che irradiava dal modello se ne aggiunge uno completamente opposto, non fare come me. In un sol colpo il modello si trasforma in ostacolo e riunisce in se stesso due termini contradditori. E al tempo stesso colui che è adorato, poiché mostra al soggetto ciò che è desiderabile, e colui che è odiato, poiché da rivale gliene proibisce il possesso. Il soggetto prova dunque per il suo modello un sentimento lacerante, formato dall'unione di due opposti, che sono la venerazione, la più sottomessa, e il rancore più intenso. È il sentimento che chiamiamo odio. Solo l'essere che ci impedisce di soddisfare un desiderio che lui stesso ci ha suggerito è realmente oggetto di odio. Quello che odia, si odia inizialmente lui stesso a causa dell'ammirazione segreta che cela il suo odio. Per nascondere agli altri e nascondere a se stesso questa ammirazione infinita, non vuole vedere altro che un ostacolo nel suo mediatore. Il ruolo secondario di questo mediatore passa dunque in primo piano e dissimula il ruolo primordiale del modello religiosamente imitato. Si vede a tal proposito la teoria del desiderio mimetico applicata dallo stesso Girard allo scontro culturale che vede nei giorni nostri contrapposti l'Islam e l'Occidente. Il portato teorico di importanza capitale della teoria del desiderio mimetico di René Girard è di avere estratto dai romanzi la verità di questa circolarità. È perché è un modello che l'altro è un rivale, ma è anche perché è un rivale che è un modello. Ciò che è in gioco oggi è una rivalità mimetica in scala planetaria. Il terrorismo è agitato da un desiderio esacerbato di convergenza e rassomiglianza con l'Occidente. L'Islam ci sottopone alla sfida un tempo intrapresa dal marxismo. Il suo rapporto mistico con la morte ce lo rende più misterioso ancora. Domanda, la sua teoria della rivalità mimetica può essere applicata all'attuale crisi internazionale? L'errore di sempre è di ragionare secondo le categorie della differenza, mentre invece la radice dei conflitti è piuttosto quella della concorrenza, la rivalità mimetica tra gli esseri, i paesi, le culture. La concorrenza, ossia il desiderio di imitare l'altro per ottenere la stessa cosa che a lui, all'occorrenza anche tramite la violenza. Senza dubbio il terrorismo ha radici in un mondo differente dal nostro, ma ciò che suscita il terrorismo non è da ricercare in questa differenza, che lo allontana sempre più da noi e ce lo rende inconcepibile. È al contrario da ricercare in un desiderio esacerbato di convergenza e rassomiglianza. I rapporti umani sono essenzialmente dei rapporti di imitazione, di concorrenza. Ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi è una forma di rivalità mimetica in scala planetaria. Quando ho letto i primi documenti di Bin Laden e ho riscontrato i suoi accenni alle bombe americane cadute in Giappone, ho capito ad un tratto che il livello di riferimento è il pianeta intero, ben al di là dell'Islam. Sotto l'etichetta dell'Islam c'è una volontà di collegare e mobilitare tutto un terzo mondo di frustrati e di vittime nei loro rapporti di rivalità mimetica con l'Occidente, ma nelle torri distrutte lavoravano sia stranieri che americani. E per l'efficienza, la sofisticazione dei mezzi impiegati, la conoscenza che essi avevano degli Stati Uniti, gli autori degli attentati non erano anch'essi un po' americani? Siamo in pieno mimetismo. Domanda, lungi dal distanziarsi dall'Occidente, lei scrive nel suo ultimo libro, non possono impedirsi di imitarlo, da adottare i suoi valori senza confessarselo e sono tutti ossessionati, quanto noi, dalla riuscita individuale e collettiva. Occorre allora capire che i nemici dell'Occidente fanno degli Stati Uniti il modello mimetico delle loro aspirazioni, sopprimendolo all'occorrenza. Questo sentimento non è delle masse, ma dell'elite. Sul piano delle fortune personali, si sa che un uomo come Bin Laden non ha nulla da invidiare a nessuno. E quanti capi di partito o di fazione sono in questa situazione intermedia, identica alla sua? Ricordiamoci di Mirabeau, all'inizio della rivoluzione francese. Ha un piede in una parte e uno nell'altra, e proprio per questo il suo risentimento si acuisce ancora più. Negli Stati Uniti gli immigrati si integrano facilmente, mentre altri, che pure hanno una riuscita brillante, vivono tuttavia in una lacerazione e in un risentimento permanente, perché sono ricondotti alla loro infanzia, a delle umiliazioni e frustrazioni ereditate dal passato. Questa dimensione è essenziale, in particolare presso i musulmani, che hanno una tradizione di fiarezza e uno stile nei rapporti individuali ancora di stampo feudale. Negli Stati Uniti gli immigranti si integrano facilmente, mentre altri, che pure hanno una riuscita brillante, vivono tuttavia in una lacerazione e in un risentimento permanente, perché sono ricondotti alla loro infanzia, a delle umiliazioni e frustrazioni ereditate dal passato. Questa dimensione è essenziale, in particolare presso i musulmani che hanno una tradizione di fiarezza e uno stile nei rapporti individuali ancora di stampo feudale. Domande, ma gli americani dovevano essere meno sorpresi da ciò che è successo, visto che vivono in continuità questi rapporti di concorrenza? L'America, in effetti, incarna questi rapporti mimetici di concorrenza. L'ideologia liberista ne ha fatto la soluzione assoluta, efficace ma esplosiva. I suoi rapporti di concorrenza sono eccellenti a patto di uscirne vincitori, ma se i vincitori sono sempre gli stessi, allora un giorno o l'altro i vinti rovesciano il tavolo da gioco. Questa concorrenza mimetica, quando è infelice, fuoriesce sempre, ad un momento dato, in forma violenta. Sotto questo aspetto è l'Islam che oggi pone la sfida a un tempo del marxismo. Noi vi seppelliremo, diceva Khrushchev agli americani, e c'era un'intenzione bonacciona in queste parole. Bin Laden è più inquietante del marxismo, dottrina dove noi possiamo rintracciare una teoria della felicità materiale, di prosperità e di successo non troppo distante da ciò che si è visto in Occidente. Cosa pensa dell'attrazione per il sacrificio dei kamikaze nell'Islam? Se il cristianesimo è il sacrificio della vittima innocente, si spingerebbe lei ad affermare che l'islamismo spinge al sacrificio e che l'Islam è una religione sacrificale, nella quale si rinviene questa nozione di modello che è al centro della sua teoria mimetica? L'Islam intrettiene un rapporto con la morte tale che mi convince sempre più che questa religione non ha nulla a che fare con i miti arcaici. Un rapporto con la morte che, da un certo punto di vista, è più intenso di quello che osserviamo nel cristianesimo. Penso all'agonia di Cristo. Padre mio perché mi hai abbandonato. Allora allontana da me questo calice. Il rapporto mistico dell'Islam con la morte ce lo rende più misterioso ancora. All'inizio gli americani presero i kamikaze islamici per dei coward, codardi, ma ben presto hanno cambiato parere. Il mistero del loro suicidio espesisce il mistero della loro azione terrorista. Sì, l'Islam è una religione del sacrificio, nella quale ritroviamo anche la teoria mimetica e del modello. Non mancavano i candidati al suicidio mentre già il terrorismo sembrava destinato a fallire. Immaginate allora cosa succede oggi che sembra, se posso dirlo, avere avuto successo. È evidente che nel mondo musulmano questi terroristi kamikaze incarnano un modello di santità. I martiri della fede in Cristo sono tuttavia, dicono i padri della Chiesa, la semenza dei cristiani. Sì, ma nel cristianesimo il martire non muore per farsi imitare. Il cristianesimo è mosso a pietà di lui, ma non invidia la sua morte. La teme anche. Il martire sarà un modello di riferimento, non un modello per gettarsi nel fuoco con lui. Nell'Islam è diverso. Si muore da martire per farsi imitare ed esplicitare in tal modo un progetto di trasformazione politica del mondo. applicato agli inizi del ventunesimo secolo, un tale modello mi lascia atterrito. È una specificità dell'Islam? Si fa spesso riferimento alla setta degli hashashin, assassini del Medioevo, che si uccidevano dopo aver dato la morte agli infedeli. Ma io non sono capace di comprendere questo gesto, ancor meno di analizzarlo. Bisogna solo constatarlo. Arriverebbe a dire che la figura dominante dell'Islam è quella del combattente guerriero e che nel cristianesimo è quello della vittima innocente e che questa irriducibile differenza è quella che porta al fallimento ogni tentativo di comprensione fra i due monoteismi. Ciò che mi colpisce nella storia dell'Islam è la sua rapidità di diffusione. Si tratta della conquista militare più straordinaria di tutti i tempi. I barbari saranno fusi nelle società che avevano conquistato, ma l'Islam è rimasto tale e quale e ha convertito le popolazioni di due terzi del Mediterraneo. Non è dunque un mito arcaico come si ha la tendenza a credere. Mi spingerei perfino a dire che è una ripetizione razionalista, sotto certi punti di vista, di ciò che fa il cristianesimo, una sorta di protestantesimo prima del tempo. Nella fede musulmana c'è un aspetto semplice, brutto, pratico, che ha facilitato la sua diffusione e che ha trasformato la vita di un buon numero di popoli allo stato tribale, aprendoli al monoteismo giudaico modificato dal cristianesimo. Ma gli manca la specificità del cristianesimo, la croce. Come il cristianesimo, l'Islam riabilita la vittima innocente, ma lo fa in maniera guerresca. La croce è il contrario, è la fine dei miti violenti ed arcaici. Domanda. I monoteismi, poiché hanno dato alla luce la nozione di verità unica, escludente ogni nozione concorrente, non sono portatori di una violenza strutturale? Si possono sempre interpretare i monoteismi come degli arcaismi sacrificali, ma i testi non lo provano. Si dice che i salmi della Bibbia siano violenti, ma chi si esprime nei salmi se non le vittime delle violenze dei miti? I tori di Baalam mi accerchiano e stanno per straziarmi. I salmi sono come una meravigliosa pelliccia all'esterno, ma che una volta rivoltata mostra una pelle sanguinante. Sono tipici della violenza che pesa sull'uomo e del ricorso che egli fa a Dio. I nostri modelli intellettuali non vogliono vedere la violenza se non proviene dai testi, ma da dove proviene realmente la minaccia? Oggi viviamo in un mondo pericoloso, dove tutti i movimenti di folla sono violenti. Questa folla è già violenta nei salmi e già nel racconto di Giobbe. Essa chiede a Giobbe di riconoscersi colpevole. È un vero processo di mosca, alla maniera dei tribunali staliniani. È un vero processo di mosca che gli viene fatto. Processo profetico. Non è quello di Cristo, adulato dalle folle e poi ricusato al momento della passione? Questi racconti annunciano la croce, la morte della vittima innocente, la vittoria su tutti i miti sacrificali dell'antichità. Domanda. Lei insiste nel suo ultimo libro sull'autocritica occidentale, sempre affiancata quella di etnocentrismo. Noi occidentali, scrive lei, siamo al contempo noi stessi e i nostri stessi nemici. Sussiste ancora questa autocritica dopo le distruzioni delle torri? Sussiste ed è legittima per ripensare il futuro, per correggere ad esempio quell'idea di Locke e di Adam Smith, secondo la quale la libera concorrenza sarebbe sempre bella e generosa. È un'idea assurda e noi lo sappiamo da molto tempo. Ed è stupefacente che dopo il fallimento così fragoroso del marxismo l'ideologia della libera concorrenza non si mostri capace di meglio difendersi. Affermare che la storia è finita perché questa ideologia ha vinto sul collettivismo è evidentemente menzognero. Nei paesi occidentali i divari salariali si accrescono in maniera considerevole e si va verso situazioni esplosive. E non parlo del terzo mondo. Ciò che ci attende dopo l'attentato è piuttosto un'ideologia rinnovata, più ragionevole del liberalismo e del progresso.